Qualcuno mi prenota un parrucchiere, per favore? Ciao a tutti e bentorni di studiante, oggi siamo qui per recensire, se vogliamo dirlo così, non mi piace chiamare le recensioni le mie, una distro che ultimamente sto adorando, ovvero PopOS. Se vi ricordate circa tre settimane fa, quando nel mio computer non funzionava praticamente nulla, quando ho reinstallato Windows, assieme a Windows, ho reinstallato anche Linux e ho scelto di installare PopOS. E mi ci sto trovando veramente benissimo. Io tendo sempre ad avere un'installazione di Linux in dual boot con Windows, però è raro che magari io sia su Windows e pensi ok adesso voglio riavviare e usare Linux, perché di solito tutto quello che faccio lo riesco a fare anche su Windows e spesso non avevo mai quell'incentivo a riavviare e aspettare quei due o tre minuti, perché Linux di solito lo tengo sul hard disk meccanico per riavvio. PopOS non so neanche io di preciso perché, ma mi riesce a dare questa cosa. Quindi siamo qui sul sito di System76, che appunto ci introduce a Pop, dice che è un sistema operativo pensato per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica e per tutti i tipi di pro. Scorrendo spiego un pochettino di feature, come ad esempio il tiling, c'è un tiling Windows Manager integrato, ma ne parliamo dopo. Tutti i programmi che si possono usare e dopodiché li sponsorizzano anche un po', sponsorizzano tra virgolette, anche i loro computer perché System76, chi è appassionato del mondo Linux probabilmente li conosce, comunque vendono dei computer che chiaramente hanno PopOS, ma che in più per tutto l'hardware in cui è possibile, invece di esserci un firmware proprietario, tendono sempre a sostituirlo con un firmware open source. Quindi è veramente una cosa interessante. Dopodiché vabbè qua spiego un po' di cose, ve le potete leggere se volete. Io direi che possiamo subito andare a scaricarlo. Download! Possiamo scegliere tra PopOS 20.10 e 20.04 LTS, in questo caso andiamo con la 20.10. Abbiamo due opzioni, 20.10 e 20.10 NVIDIA, questa è quella che ad esempio ho scaricato io quando l'ho installato nel mio computer perché è una scaricata di NVIDIA. Se non avete una scaricata di NVIDIA potete scaricare questa. Anche se avete una scaricata di NVIDIA potete scaricare questa e questa la vi driver a mano. Ma una delle cose più comode, a parer mio, è proprio che i driver NVIDIA funzionano. Da Dio su PopOS basta vibrare tutto. Quindi, ho già scaricato l'Azion, andiamo su VMware. Piccola cosa per poter installare PopOS sul vostro computer dovete avere il Secure Boot disattivato come avevo fatto notare anche nello scorso video appunto. Io in realtà ho scoperto che nel mio computer era già disattivato di default e in teoria nei PC fissi lo è però potreste dover controllare nel BIOS se nel vostro computer è attivo. File New Virtual Machine Next Next I will install the operating system later Linux Ubuntu perché è basato su Ubuntu o comunque su Debian PopOS Next Gli diamo non 14 core, magari 4 sono meglio 4 GB di RAM possono andare bene Questa configurazione di direte va bene, questo va bene Scasi può andare bene Disco da facciamo 40 GB Next Next Customize Hardware E gli diamo la ISO Close Finish Close Ma ragazzi ma su Linux non posso fare il mio tormentone Devo cliccare Startup Disgressed Operating System Non Power On This Virtual Machine Ok vabbè Quindi qua caricherà Sta caricando Anche qui abbiamo i mega scrittoni pazzisca Basta L'avete apprezzata più del dovuto quella battuta Ok quindi qua possiamo scegliere la lingua Mettiamo ovviamente italiano Italiano Possiamo selezionare la tastiera Per definito E qua possiamo scegliere tra Clean Install e Custom E qua tra l'altro possiamo andare in modalità demo Che è la Live USB Cosa che se ne avete notato non ce l'aveva fatto scegliervi Ma sono fuori fuoco Custom Sostanzialmente potete modificare le partizioni Cliccando Modify Partition Tanto è un po' tradotto Un po' no Potrebbe triggerare qualcuno E le potete creare da G-Parted Quello che invece andrò a fare oggi E come ho fatto anche quando l'ho installato io E mi sono trovato veramente bene Cliccare Clean Install Qua vi chiede su quale disco installarlo Non è che gli importa che altri sistemi operativi avete Vi chiede su quale disco installarlo Cancella e installa Questa cosa potrebbe chiaramente dare fastidio a chi vuole fare un dual boot sullo stesso disco Lì vi dovete impegnare un po' di più Perché altrimenti vi cancella tutto Però perlomeno per chi vuole installarlo su un disco separato È di una comodità incredibile Possiamo incriptare il disco In questo caso non lo faccio perché è una macchina virtuale Adesso vai con l'installazione Ok Quindi ha finito Adesso dice dopo il riavvio posso creare un nuovo utente Quindi possiamo o riavviare o spegnere addirittura O possiamo avere un terminale Quindi bella scelta Noi riavviamo Siamo su PopOS appena creato Non posso alzare la risoluzione per ora Vabbè Clicchiamo successivo Possiamo assicurarci che la tastiera sia giusta Gli togliamo i servizi sulla posizione Gli diamo il fuso orario giusto Possiamo connettere degli account online In questo caso non lo faccio Con l'account Google Vi sincronizza tipo calendario e anche Google Drive Con Microsoft non vi sincronizza OneDrive Che era una cosa su cui speravo un pochettino Salta Creiamo le nostre informazioni personali Non è che le scegliamo Le creiamo Se c'è ancora una foto profilo io mi sceglierò questo Password Inizio a usare PopOS Prima cosa proviamo a alzare poco poco la risoluzione Dopodiché proviamo a installare i VMware Tools Quindi Wem Install VMware Tool Installa Quindi come potete vedere già Gnome Comunque Prendiamo questo file Però lo copriamo nei documenti Restareiamo i VMware Tools Apri il terminale Sudo Punto slash VMware install pl Slash y Eh Pensavo fosse così per fare sempre sì Invece no Quindi va bene Segmentation fault Questa cosa non dovrebbe comparire in un programma finito È un errore del programma Signore sviluppatore di VMware Non mi alzi la risoluzione Installiamo gli Open VM Tools No Non mi sembra Proviamo a vedere così Ah no invece sì Ok invece sì Alla Quindi iniziamo a esplorare il sistema operativo Prima cosa che noto E che mi dà fastidio E che non capisco E che non c'è il tasto per massimizzare Ma soprattutto non c'è quello per minimizzare Carissimi produttori di distro Linux Perché? Ma no Spiegatemi Forza Sono qua Vabbè Comunque per abilitarlo Non dico che è semplice Però più o meno Apriamo un terminale Qui si apre con il tasto di Windows Il tasto super è la T Sudo app install Gnome Twix Se sapessi scrivere Twix Installiamo Gnome Twix E lo facciamo da qua Quindi Apriamo Gnome Twix Barra superiore No Barra titolo della finestra Tutto Ok Adesso è più umano da usare Dopodiché Come vedete È Gnome E in quanto Gnome Di default Non c'è una doc Se non cliccando sul tasto attività E aprendola da qui Anche questo è risolvibile da Gnome Twix È una cosa che io tendo a fare Che mi semplifica la vita Estensioni No Dobbiamo installarlo Dash to dock Scusate Quindi Apriamo Firefox Che come vedete è preinstallato Dash to dock Poi chiaramente potete anche non installarlo Se preferite altre doc Magari potete usare Dash to panel Però io preferisco E credere a lunghe Dash to dock Quindi Installiamo l'estensione Per Per Firefox Installiamo il Cosonativo per Ubuntu E quindi per Pop Che è già installato Bene Sì io Ricarico questa pagina Versione shell 3.38 Versione 6.69 Qua clicca attiva Installo Eccoci con una doc Umana Poi potete personalizzarla Però vabbè L'importante è averla Dando un'occhiata ad esempio A cosa c'è preinstallata Abbiamo calcolatrice Calendario Contatti Editor di testo Questo dovrebbe essere Semplicemente G-Edit Sì File Firefox Geary Imposizioni Meteo Office Che è il Libre Office Pop Shop Strumenti di sistema Terminale Utility varie E personalizzazione Veramente molto scarna Scarna in senso buono Come distro Infatti occupa solamente 37 Meno 28 8.9 GB Potevo probabilmente Da qualche parte Fare tasto destra E me lo diceva Qua appunto abbiamo Il tasto dell'attività Di Gnome Non è ancora Gnome 40 E non lo sarà Perché stanno lavorando A quanto ho capito A un nuovo desktop environment Fatto interamente da loro Siamo appunto su Gnome 3.38.3 Qua sopra abbiamo Ovviamente il calendario Di Gnome Questo è il menu di Gnome E l'unica cosa Che non è di Gnome E questo È la possibilità Di avere il tiling Io sinceramente Non lo uso Però vi possiamo dare un'occhiata Insieme Come vedete Abbiamo un tiling Ad esempio Mettiamo Firefox E File Manager Abbiamo appunto Questa possibilità Di avere gli space screen Fra di loro La cosa che mi piace Dandogli un'occhiata Rispetto ad esempio Ad i3 E che comunque Se non vi ricordate La scorciatoia testiera Non è che state lì No qual'era Devo fare casini Voglio spostare di qua Non mi ricordo la scorciatoia Fatto Cioè Però ci sono appunto Le scorciatoie Abbiamo Tasto Super e Slash Cosa fa? Ah Per scegliere le varie finestre Ok Super più Arrow Keys Ok Per vedere quale finestra evidenziare Toggo il tiling Super Y Super Y Possiamo scegliere Se far vedere I titoli delle finestre o meno Far vedere Qual è la finestra selezionata Personalmente Non mi piace Si può anche cambiare Il colore Magari lo possiamo fare più No però Mi sa Questo a bordo attorno Mi sa di qualcosa Che è selezionato E mi dà fastidio Possiamo diminuire il gap tra le cose No ti prego di metterlo come era di default Abbiamo le eccezioni A quali programmi Non devono essere Tailati E niente È interessante Ah qua abbiamo un sacco Di altri scorciatoie comunque Allora abbiamo Arrow Keys O le scorciatoie di Vim addirittura Super Enter Cosa fa? Ah Permette di spostare le cose Ok Va bene Ci sono tutte queste scorciatoie Shift super su Mi cambia desktop Ah ok Mi cambia desktop Giustamente Aspetta facciamo così Guarda In questo desktop qui Apriamo un terminale Che va a schermo intero Ok Si fa su e giù Perché su questa pezione di Gnome I vari desktop sono uno sopra e uno sotto Vabbè tutte le scorciatoie Che vabbè non ha senso andare a guardare E quindi questo era il tiling Dopodiché possiamo dare un'occhiata Per esempio al Pop Shop Che comunque non è tipo quello di Elementali Che è tutto integrato E cose strane È uno shop Abbiamo le Pop Picks Ovvero le cose scelte da loro Atom Slack Telegram Mail Steam Lutris Vabbè tutta sta roba Ricorda molto quello di Ubuntu Ma ha fatto bene Da qua possiamo anche aggiornare il sistema operativo 17 componenti da aggiornare Firefox 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 Cose Firefox Qua abbiamo le impostazioni Possiamo scegliere da dove fare gli aggiornamenti Se fare anche da Flatpak Insomma Pop OS È finito qui Possiamo anche guardare il file manager Ma è quello di Gnome normale Cioè Fine Qua c'è una di recenti Le cose Ah una cosa che mi piace Si apre sulla home Incredibile Possiamo anche dare un'occhiata Delle impostazioni Che sono indovinate un po' Quelle di Gnome Abbiamo rete Bluetooth Aspetto Per I sfondi Intanto per Mettiamo Questo Possiamo scegliere se vogliamo la Light Mode O la Dark Mode Che tra l'altro era di rivolta Dark Vabbè poi abbiamo le schermate notifiche Cosa cercare Insomma Sono molto quelle di Gnome L'unica e diversa è ovviamente questo OS Upgrade Per quando uscirà una nuova versione In sistema operativo Adesso mi dirà Ehi non c'è niente infatti Ah qua abbiamo la sezione firmware Per quando si ha un computer Che supporta l'aggiornamento del firmware Direttamente da qui Come potete notare Alcune traduzioni sono fatte un po' strane Tipo Mouse e touchpad Quindi questo è italiano Mouse acceleration Keyboard Usare la stessa sorgente Switch input Keyboard shortcut Customize shortcut Sotto scotch E le traduzioni sono fatte un po' male Me ne rendo conto Però Se è solo questo Perché vi dico che la sto adorando? Perché è solo questo? Perché funziona La versione con Nvidia Soprattutto E tra le liste Linux Più stabili Che abbia mai usato Zero problemi Zero crash Zero casinia di installarli Sei installata E funziona Non c'è roba strana integrata Te la puoi installare tu tranquillamente Non è pieno di bloatware È comodo da usare Mi sta facendo riapprezzare Gnome Ed è incentrata al gaming Nel senso che è molto aggiornata Su quel fattore Quindi appunto Le vendite sono aggiornati Tutti i driver sono aggiornati I pacchetti che servono Sono aggiornati Non l'ho usata tanto per giocare Ma ci ho giocato Un bel po' a Minecraft Ultimamente sto rigiocando a Minecraft E veramente È fluidissimo A zero problemi Zero nulla Quindi è per questo Che sto adorando PopOS Perché è semplice Senza casini Esteticamente coerente Mi piace volerlo usare Ah Un'unica cosa Che potrei precisare Questo è più sul livello tecnico Di default non usa Grab Ma usa il sistema MD boot Per me in realtà è una cosa semi comoda Perché così Siccome io faccio partire sempre Linux dal boot menu del mio computer In questo modo non devo Prima cliccarlo lì E poi cliccare di nuovo Linux da Grab Ma semplicemente parte Ma perché evidentemente fa un dual boot E vuole utilizzare Un bootloader all'avvio Per scegliere quale sistema operativo avviare Dovrete installarvi Grab a mano Altrimenti vi partireà solamente Pop Questa è una cosa da precisare Non è una listro pensata molto per il dual boot Me ne sono reso conto Però il punto è che Funziona bene E fa quello che dovrebbe fare Alcuni potrebbero dire Sembra Ubuntu Sì Ma ragazzi non so se avete usato Ubuntu Negli ultimi tempi È una me Cioè è buggatissimo più di Windows eh Se devo scegliere tra Windows e Ubuntu Windows tutta la vita ragazzi Quindi niente Fatemi sapere cosa ne pensate voi di PopOS So che vi piace Perché sul gruppo Telegram So che vi piace So che qualcuno dà qualche problema di prestazioni Quindi potreste controllare questo Ma sul mio computer veramente va da Dio Cioè da dire che ho un Ryzen 7 1650 Super con 6 GB di RAM Fatemi comunque sapere la vostra Io spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato lasciato un like Commentare, condividere, passare Instagram e Twitter Che trovate come sempre in descrizione Passate da Telegram Da Discord Dal mio canale di gaming E da BB Spazio Che trovate in descrizione Quasi cap'è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Ciao